Racconto la storia di tre ragazze, ragazze che sono realmente vissute, che sono esistite, che raccontano storie vere, concrete. Raccontiamo di Anifa, che è una ragazza di 16 anni che vive in Afghanistan, che è una di quelle ragazze che stava per cadere vittima dei cosiddetti i matrimoni forzati, che per evitare questo decide di darsi fuoco. Raccontiamo del Kenya, passiamo poi al Kenya, per cui raccontiamo di Rose, una ragazza che fa parte delle cosiddette tagliatrici di rose all'interno delle serre che sono cresciute intorno a 20-30 anni fa, intorno al lago Naivasha. Sono ragazzi che lavorano senza protezione, senza mascherine, i diritti dell'essere umano non vengono proprio considerati, per cui si ammalano poi di cancro e vanno incontro alla morte molto presto. Per unire queste due storie abbiamo poi cercato di raccontare e di affrontare un tema molto importante rispetto alla democrazia, alla libertà, al senso della dignità attraverso la storia di un'altra ragazza iraniana, Neddha. Neddha è stata uccisa nel 2009 durante una manifestazione. Per lottare contro l'ingiusto hanno deciso di scendere in piazza. Lei è scesa in piazza a manifestare come tante altre giovani ragazze e purtroppo è rimasta uccisa per un colpo di un miliziano. Lo spettacolo nasce da dei reportage che Silvia Rest ha fatto sia in Afghanistan che in Kenya, quindi erano storie già raccontate attraverso il linguaggio della televisione. Francesco Zarzana ha pensato di scriverle per il teatro e noi di metterle in scena. In verità siamo molto contenti di essere al Festival dei Sentieri. Per me è anche un ritorno, perché già ero stata l'anno scorso con uno spettacolo molto più leggero che era un spettacolo con Angela Pagano su Raffaele Viviani. Questa è un po' una scommessa, però il sindaco, bontà sua, ha detto ma perché d'estate la gente non deve pensare? Allora però ci tengo a dire che questo è uno spettacolo, nonostante che racconti storie così dolorose, però è uno spettacolo pieno di vita, perché racconta di ragazze giovani di 16 anni che avevano voglia di vivere. Abbiamo voluto inserire questo spettacolo perché riteniamo che la città di Plastica sia l'emblema della difficoltà di vivere oggi, soprattutto da parte dell'universo femminile. In tante parti del mondo i diritti delle donne vengono calpestati tutti i giorni. In Italia ci sono tantissimi casi di maltrattamenti e di femminicidi. Allora riflettere su questo significa riflettere su quello che noi potremmo fare, ognuno di noi, per migliorare la situazione e per creare un mondo dove ci sia più rispetto più amore.